Una delegazione proveniente dalla Dalia Minsu University in Cina, questa oggi ospite all'Università di Salerno, un'occasione importante per l'Università e anche per promuovere anche scambi futuri? Certo, sicuramente lo è. In generale i rapporti internazionali sono un po' l'obiettivo del nostro Teneo. È un qualcosa di cui abbiamo molto investito negli ultimi sei anni e continueremo a investire sicuramente nei prossimi sei, in particolare perché è uno degli obiettivi strategici che abbiamo definito. Tra questi i rapporti bilaterali con Atenei come quelli cinesi costituiscono il fulcro per quanto riguarda i nostri obiettivi. Quindi questa di oggi è un'occasione straordinaria, in particolare questa delegazione che come sappiamo è guidata dallo stesso Rettore, per cui è di particolare prestigio e di particolare rilievo con la visita che viene fatta, a cui è anche accompagnato il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita. Per cui abbiamo voluto coinvolgere vari dipartimenti in questa visita, il Dipartimento di Farmacia, il Dipartimento di Chimica e Biologia, i vari dipartimenti di Ingegneria, il Dipartimento di Informatica e il Dipartimento di Samis, perché riteniamo che tutte queste competenze possono essere utili in un contesto multiculturale, multidisciplinare, nello scambio che possa essere di beneficio per entrambe le istituzioni. Grazie. Grazie.